Buongiorno, benvenuto, bentornato, io sono Leandro Lombardo e anche oggi sono qui, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì per raccontarti tutte le notizie che circondano la Juve e qualche chicchetta anche sulle altre squadre. Intanto, come state? Vi racconto brevemente la mia giornata di ieri, sono stato alle visite mediche per Bremer, quindi ieri, ragazzi, non ho potuto fare il video. C'era molto, molto, molto casino per il giocatore, infatti mi aspettavo meno hype, nonostante l'abbiamo strappato all'Inter, nonostante comunque serviva subito un colpo dopo che De Ligt è stato ceduto, mi aspettavo un po' meno hype, un po' meno persone, mi aspettavo una quarantina, cinquantina, invece secondo me eravamo un centinaio che sotto il sole hanno aspettato Bremer, che però l'ho visto un po' impacciato, effettivamente magari era emozionato, era un po' in ansia, era un po' agitato e lo si denota anche dai video e le interviste che l'ha lasciato su canale della Juventus, che vi invito a guardare. Quindi Bremer è chiuso, operazione da 41 milioni più 8 di bonus, cifre ufficiali rilasciate alla Juventus, sì, è effettivamente una cifra un po' più alta, diciamo che questo essere arrivati in ritardo della Juve sul giocatore e la disponibilità economica, il fatto che ci fosse una sta con l'Inter, con tutti questi fattori, anche la volontà di portarlo subito in tournée ha portato la Juve a spendere secondo me una decina di milioni in più, che va bene, una volta ogni tanto ci stanno, però diciamo prossima volta cerchiamo di fare un'operazione un pelo più oculata, anche perché Bremer potrebbe diventare il fenomeno della vita, ma attualmente ha giocato solamente al Torino, quindi fiducia in lui, però attenzione a fare questo tipo di operazioni perché potremmo farci male. Bremer che arriva, Rugani che potrebbe partire nonostante il suo agente avesse detto di no, ieri a Clamoroso abbiamo parlato, Clamoroso è la puntata che facciamo su Twitch ogni mercoledì sul calciomercato, e Rugani non è così scontato che rimanca, infatti ci sono diverse squadre su lui, c'è il Bologna, c'è la Fiorentina che potrebbe fare un'uscita in difesa, sappiamo benissimo, c'è Milenkovic che interessa diverse squadre, tra cui a quanto pare anche la Juventus e la Lazio, attenzione, perché nel caso in cui partisse a Cerbi potrebbe essere interessante Rugani, io me la butto lì, speriamo che non ci sia uno scambio Rugani a Cerbi, anche perché alla Juventus ragazzi interessa un difensore centrale che sappia giocare sulla sinistra, questa mattina è uscito un colpo nuovo, aspettate un attimino, che ve lo dico perché mi devo ricollegare a un altro giocatore. Passiamo però l'attacco, l'attacco è il reparto in cui la Juventus ha più bisogno di agire, perché Chiesa ragazzi tornerà nel 2023, quindi un esterno sinistro serve, il preferito di Massimo Allegri per il reparto offensivo è Alvaro Morata, perché sa gestire anche la parte esterna del campo a sinistra, come ha fatto bene l'anno scorso, nel fine di stagione, e sa essere anche un'alternativa a Vlaovic come prima punta, poi Allegri lo conosce benissimo, sa quanto è la sua voglia di sacrificarsi, assista i valori e conosce i valori del giocatore, diciamo che è la prima scelta, secondo Sky Sport, dietro poi ci sono Berardi e Zaniolo, però a Zaniolo ci arriviamo un attimino e facciamo il ragionamento tra qualche minutino. Invece, sempre per l'attacco, Piazza sembrava essere un giocatore della Sampdoria, ieri però il giocatore, secondo Marco Guide, ha rifiutato l'operazione, in quanto probabilmente sta aspettando la Dinamo Zagabria, quindi vediamo quali sarà il futuro di Marco Piazza. Il nome nuovo uscito ieri è quello del Gallo Belotti, io onestamente impazzirei per averlo come vice Vlaovic, vediamo però come si sviluppa la situazione Morata, vediamo però se esce Keane, ci sono tante considerazioni da fare, Belotti attualmente piace molto in Italia, però lui vorrebbe un ruolo centrale e attualmente le squadre a cui interessa, cioè Roma, Napoli e Juventus, hanno tutte e tre la prima punta, quindi Belotti dovrebbe essere la riserva o perlomeno provare a giocarsi il posto. Onestamente se fossi in Belotti andrei alla Juventus, fa la riserva rispetto che Napoli e Roma, però vediamo se effettivamente Belotti interessa così tanto alla Juve e quanto potrebbe essere golosa come opportunità di mercato. Tra qualche giorno vediamo, perché la Juve offensivamente si deve muovere, però la priorità attualmente è l'esterno sinistro. Situazione pericolosa a centrocampo, ma non per mancanza di uomini, ma per sovrabbondanza. Infatti la Juventus deve muoversi in uscita, McKennie in un certo senso pare si sia tolto dal mercato. Ieri a gol ha rilasciato questa intervista e ha parlato di Max Allegri e del suo ruolo alla Juve. Leggo due breve righe. Max Allegri, le sue parole sono state molto importanti per me e qui mi sento desiderato. Su un mio potetico trasferimento ne ho sedite di tutti i colori, al punto che è difficile ignorare tutte certe voci. Quindi da questo messaggio si capisce comunque McKennie si sente desiderato alla Juve e pare voglia restare alla Juve. Poi non si sa, arriva un'offertona, non lo sappiamo. Per quanto riguarda ancora il centrocampo, Rabiot non parte per la tournée per problemi personali. La decisione è stata presa insieme alla società, quindi in teoria non dovrebbe esserci nessuna rottura, ma solo prove personali per quale Rabiot non può partire per la tournée. Invece per quanto riguarda Artur, la situazione è sempre drammatica. Il giocatore non partirà anche lui per la tournée per un problema fisico, ma in questi giorni comunque il giocatore si è allenato. Sembra evidente che il giocatore è sul mercato, speriamo che questa situazione si risolva prima possibile. Attualmente le squadre su Artur non sono tantissime e il giocatore ha un costo elevatissimo. Quindi vediamo quale sarà la soluzione per Artur, probabilmente sarà un prestito secco di un anno, prestito con diritto. Speriamo che si risolva prima possibile questa situazione per liberare dello spazio a centrocampo. Situazione risolta invece per Filippo Ranocchia, uno dei tanti giovani di cui la Juventus va a decidere il futuro. Sarà un nuovo giocatore del Monza, prestito con diritto di riscatto e secondo Romeo Agresti le parti stanno parlando anche per un controriscatto. Quindi un'operazione che in teoria va a portare Ranocchia a giocare in Serie A, a giocarsi il posto in Serie A. E la Juventus comunque dovrebbe mantenere il potere sul cartellino del giocatore. Quindi vediamo quello che sarà, auguriamo buonissima fortuna a Ranocchia che è un giovane molto molto interessante. Speriamo faccia bene in questa sua esperienza di A. La Juventus sta cercando di liberare posti perché gli obiettivi a centrocampo dovrebbero essere due. Nicolo Zaniolo e Leandro Paredes. Zaniolo che sarebbe un Joldi che può giocare mezzala, trequartista, alla destra. Diciamo che sarebbe il Bernardeschi upgradeato, speriamo. E Paredes che dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di mediano. Che attualmente la Juventus un po' manca, un giocatore con queste caratteristiche. Però per Paredes ragazzi io la vedo molto dura in quanto la Juventus deve fare forse più di un'uscita, non bastardo. Probabilmente deve uscire anche uno tra Rabiot e McKennie. Perché se no Miretti e Fagioli non avrebbero alcun spazio. O perlomeno uno dei due non avrebbe alcuno spazio. Quindi vediamo cosa deciderà la Juventus e vediamo cosa farà per Paredes. E se si muoverà per Paredes. Infatti secondo Nicoschira ieri ha avviato i primi contatti ufficiali con l'entourage del giocatore. E l'entourage del giocatore che segue anche Senesi. Vi dicevo prima, difensore centrale, ci arriviamo dopo. Senesi è un giocatore del Feyenoord con contratto e scadenza al 2023. Però il Feyenoord ha l'opzione per rinnovarlo nel 2000. Fino al 2024 è un difensore giovane che sa giocare sul centro-sinistra. Ha una valutazione intorno ai 18 milioni. Quindi potrebbe essere un'idea nel caso in cui Rugani dovesse partire. Attualmente la Juventus ha quattro centrali di destra. Bremer non sappiamo se può giocare sul centro-sinistra. Io penso che questo è un affare da fare. È un giocatore di prospettiva. Io onestamente non lo conosco. Però per caratteristiche è quello che ci manca. Ovviamente se dopo la Juventus lo sceglierà mi fido. Perché loro lo hanno osservato, lo hanno visto. E evidentemente il giocatore può essere interessante per coprire la parte sinistra della Juventus. O per lo meno per giocarsi il posto magari con Bremer che probabilmente inizialmente giocherà sul centro-sinistra. Per Zaniolo, torniamo a Zaniolo. Per me Zaniolo la situazione è semplice. Zaniolo vuole la Juve, la Juve vuole Zaniolo a Roma. Non si sa cosa vuole fare con Zaniolo. Di fatto però non è una priorità. Abbiamo visto la Juve chiudere Bremer in 72 ore. Forse anche meno. Se la Juve volesse chiudere Zaniolo l'avrebbe fatto nello stesso tempo. Secondo me la Juve sta aspettando la Roma. Sta aspettando che la Roma magari non riesca a far uscire qualche giocatore. Infatti la Roma ha una quindicina di giocatori da piazzare. E ha bisogno di disponibilità economica. Visto gli investimenti che ha fatto ad esempio su Dybala. Vediamo quale sarà la situazione Zaniolo. Diciamo che nel caso in cui non riuscisse quest'anno questa operazione. Noi intanto ci puntiamo. Comunque ci potrebbe essere il prossimo anno che potrebbe essere interessante. Per Zaniolo si muoveva anche il Milan che in queste ultime ore sta definendo De Canteler. E per quanto riguarda l'Inter sappiamo che ci sono delle voci su Skriniar. Potrebbe rimanere, non lo so. Secondo me se arriva l'offerta lo vendono anche a 60 milioni. Non si farebbero problemi. E le alternative secondo Gazzetta sono De Miral e Milenkovic. Quindi magari Milenkovic va all'Inter. Libera spazio per Rugani che va alla Fiorentina. E da noi arriva Senesi. Potrebbe essere molto molto interessante. Comunque ragazzi per oggi le notizie sono finite. Vi ringrazio ancora di essere stati qui con me. Lasciate un like, lasciate un commento. Aiutate a crescere questo canale. E ragazzi non mi resta che dire buona giornata.